Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana a partire dal momento in cui la stai guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte, ok? E suddivideremo la lettura in tre gruppi. Gruppo A, gruppo B e gruppo C. Ti consiglio durante la preghiera di protezione di chiedere al tuo Sacro Cuore, ai tuoi angeli, all'Arcangelo Michele qual è il gruppo di appartenenza più appropriato per te. Naturalmente potresti scegliere anche tutti e tre i gruppi, ok? Bene, iniziamo. Invoco la Divina Presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei Angeli Custodi, il mio Sé Superiore, gli Angeli Custodi, il Sé Superiore di tutte le persone che con tanto amore seguono la lettura angelica settimanale. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, coscienza dell'Arcangelo Michele. E con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare le nostre intenzioni, parole ed azioni, di liberarci dall'ego, dalla paura, dal giudizio, dalla competizione, da tutto ciò che ho posto a Dio alla luce all'amore. Ti chiedo con amore di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea, Onnipotente Padre e Madre. Chiedo massima protezione, guida ed assistenza. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie all'intera coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Gruppo A. Felici aspettative. E' uscita ancora prima che io finissi la preghiera, la carta per il gruppo A. Vediamo il gruppo B, armonia familiare. Vediamo il gruppo C, nuove amicizie. Vediamo le carte degli unicorni, che messaggio hanno per noi questa settimana attraverso l'Arcangelo Michele. Gruppo A, magic, magia, magia di manifestazione. Fantastico, il gruppo A, veramente ha delle carte molto positive. Gruppo B, immaginazione. Vediamo il gruppo C. Vediamo un po' cosa ci vogliono. Eccolo qua, vite precedenti. È interessante. Ora vediamo gruppo A, con le carte del soul coaching, ossia il coaching dell'anima. Eccola qui, gruppo A. Apertura. Apriti a ricevere, amore. Ah, bellissime queste carte, veramente. Vediamo il gruppo B. Eccole qua, sono cadute due carte. Nuovi inizi e azione. Per il gruppo B. Vediamo il gruppo C. Eccola qui, uscita. Accettazione. Ok, vediamo un po'. Vediamo. Gruppo A, felici aspettative, assolutamente. I tuoi desideri saranno soddisfatti. Aspettative positive significa anche ringraziare come che già qui ed ora quello che tu stai chiedendo. Eh, diciamo che stanno arrivando delle, delle novità nella tua vita, eh, stanno arrivando nuove idee, stanno arrivando un nuovo lavoro, nuove amicizie, nuove conoscenze, i tuoi progetti si stanno manifestando. C'è della magia nell'aria, va bene? Assolutamente. I tuoi desideri verranno soddisfatti e realizzati. Quindi, mh, desidera, chiedi quello che vuoi, che credi nei miracoli perché è veramente un'ondata positiva sta arrivando a te. Apriti a ricevere. Ti chiedono gli angeli di avere maggiore apertura a ricevere. Eh, espanditi. Apriti a ricevere amore, ricchezza, denaro. Prosperità, abbondanza, salute, gioia, amicizia, bellezza, cose straordinarie nella tua vita, va bene? Il doni del, doni dell'universo, doni dall'universo stanno arrivando a te. Benissimo. Gruppo B, anime meravigliose. Vediamo il gruppo B, armonia familiare. Eh, assolutamente. Nella tua famiglia c'è serenità, c'è pace, armonia. Se ci sono state delle discussioni, dei frintendimenti passati, è tutto risolto. Il perdono ha contribuito a riarmonizzare l'energia del nucleo familiare. Se c'è ancora conflitto, l'Arcangelo Michele ti sta invitando a perdonare perché l'armonia familiare è tutto. È troppo importante per te per poter affrontare meglio la vita di tutti i giorni, lavorativa, nella società, nelle amicizie. Hai proprio bisogno di pace nella famiglia e questa sta arrivando. È nella direzione per te, ok? Nella direzione verso di te. Ok, immaginazione, assolutamente è importante visualizzare la realtà che tu desideri manifestare, dicono gli angeli e gli unicorni. Lasciati il permesso di sognare, di creare, di immaginare. Cerca di elevare i tuoi standard, punta più in alto. L'immaginazione è tutto. Ricordati che il nostro cervello non distingue quello che è immaginato da quello che è avvenuto realmente. Quindi per l'inconscio, se tu dai informazioni positive, immaginazione creativa, emozioni positive, legate ai tuoi sogni, ai tuoi desideri, ai tuoi obiettivi, queste per la legge dell'attrazione, per la legge della vibrazione, si manifesteranno nella tua realtà. Quindi veramente cerca di proiettarti ad una visione di quello che vuoi veramente dalla vita. Naturalmente c'è l'azione necessaria agire nella direzione dei tuoi obiettivi, oltre che immaginare e sognare e creare a livello energetico, è anche importante l'azione. Quindi agisci, basta procrastinare, basta rimandare, basta dire non so se farlo o non farlo, agisci, fai, vai. È necessario agire, il mondo è in movimento, l'universo è sempre in movimento. Chi è fermo è perduto, ok? Nuovi inizi, veramente, ci sono dei nuovi inizi nella tua vita, ok? Sei chiamato veramente a creare la realtà dei tuoi sogni, perché ci sono nuove lune, nuove novità, nuova energia, nuovo tutto. Quindi apriti anche tu a sognare, a creare, ad agire e a manifestare quello che vuoi veramente nella tua vita. Puoi uscire da questa situazione spiacevole e creare una nuova realtà. Il tuo presente crea il tuo futuro. Lascia andare il passato, ok? Bene, gruppo C, anime meravigliose, nuove amicizie, finalmente era ora, hai tanto chiesto a Dio, all'amore all'universo, di aiutarti ad avere delle persone vicine che ti vogliono bene veramente, che ti accettano e ti amano esattamente così come sei. Naturalmente l'Arcangelo Michele, l'invito è anche quello di amare te stesso e te stessa così come sei e l'universo infatti ti manderà e ti sta mandando nuove connessioni, ti sta mandando anime compatibili alla tua, anime che fanno parte della tua famiglia d'anima, ok? Quindi anime che hai già conosciuto in passato, in altre vite, in altre esistenze, potrebbe essere un amore che hai sbocciato, un amore che stai vivendo o un'amicizia, ok? Assolutamente questa persona, queste persone le hai già conosciute in altre vite e per questo la familiarità, la connessione d'anima che vi lega e che vi unisce. Quindi non buttare via questa opportunità, non buttare via queste connessioni, cioè nel senso apprezza l'armonia, naturalmente laddove c'è disarmonia e ci sono conflitti, ci sono delle questioni da risolvere, da guarire, anche legate a vite precedenti, ma che si possono guarire con la comprensione, con la compassione, col perdono, perché può portare guarigione in questa relazione. Comunque nuove energie, nuove connessioni stanno arrivando a te, accetta la situazione così com'è, questa è una carta anche del cuore, accetta l'amore, accetta anche le diversità. Non è detto che le persone debbano essere identiche a te o uguali a te, nella diversità tu puoi trovare la crescita, l'evoluzione. Quindi voglio dire, non devi trovare persone a immagine tua somiglianza, ma compatibili con te e alle volte anche il diverso ti aiuta a conoscere nuove cose, nuove strade, nuove vie, nuove idee creative. Quindi veramente, assolutamente, accetta la vita così com'è, accetta te stesso, accetta e ama te stesso e te stessa. Sei chiamato a fare questo e vedrai che nuove energie e nuove connessioni arriveranno a te, perché fa parte del tuo destino, conoscere persone nuove che ti aiuteranno nel tuo cammino di vita. Ok? A crescere, ad evolvere, ad amare e ad essere amato e amatta, nell'amicizia e nell'amore. Ok? Bene, scegliamo un messaggio, ho già aperto il libro, è veramente, va bene, ormai l'ho aperto, quindi andiamo veramente a leggere il messaggio che c'è per questa settimana. Agisci come se fosse la prima volta e con la grazia e la leggerezza del principiante che riuscirai a stupire e a stupirti ad ogni passo. E con la modestia di chi comincia da zero, che potrai vivere il successo che ti attende nel futuro. Bellissimo messaggio. Bene, anime infinite, per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura angelica. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare sessioni private di letture angeliche, di guarigione energetica o di logo sealing per aiutarvi a sciogliere i blocchi, le paure, le credenze illimitanti, per riprogrammare il vostro inconscio nella direzione dei vostri obiettivi. Accetto massimo 5 persone al mese, quindi se sei interessato chiamami, contattami per informazioni, le informazioni voglio dire sono gratuite. Volevo anche ricordarvi che le prossime classi online per il percorso di guarigione con le nuove frequenze di luce inizierà il 15 di dicembre. Sono aperte le iscrizioni, massimo 12 partecipanti e poi invece il corso di connessione angelica inizierà l'11 dicembre di lunedì. Entrambi i corsi saranno alla sera, dalle 21 alle 23 circa, assolutamente super intensi, si lavora benissimo anche online, è possibile veramente sentire gli angeli, connettersi con le frequenze di luce, è possibile accedere a questa nuova energia. Quindi veramente le persone che stanno lavorando con me sono entusiaste dei risultati che stanno ottenendo. Per chi invece vuole la presenza, vuole vivere il seminario di guarigione in presenza, lo faremo dal 23 al 26 marzo 2024. 9 posti disponibili su 15, quindi le persone si stanno iscrivendo, se sei interessato o interessata contattami, avrai tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che ti servono per capire se questo è il percorso giusto per te. Naturalmente lo capisci nel cuore, perché è il cuore che guida in questa direzione. La mente razionale ci sabotta, ascoltiamo l'anima, ascoltiamo cosa l'anima ha da dirci. Io vi saluto, vi abbraccio, un bacione, a presto, alla prossima settimana. Ciao anime meravigliose!